Il movimento 5 stelle spelle il sindaco di Gela Domenico Messinese. È il primo caso in Italia. Le nubi erano dense all'orizzonte da alcuni giorni ad offuscare le 5 stelle e infine furono fulmini e saette. Cadono le 5 stelle al comune di Gela e del fuoco incrociato di accuse e risposte alle accuse. E si tratta di veri e propri botti di fine anno, deflagranti. Il sindaco Domenico Messinese non fa più parte del movimento in quanto venuto meno agli obblighi assunti con l'accettazione della candidatura. Si è dimostrato totalmente fuori asse rispetto ai principi di comportamento degli eletti nel Movimento 5 stelle e anche alle politiche ambientali, energetiche e occupazionali più accreditate in ambito europeo. E quanto stabilito dal Movimento 5 stelle Sicilia alla luce del comportamento tenuto fino ad oggi da Domenico Messinese, sindaco di Gela eletto nelle fila del Movimento. Messinese prosegue il Movimento 5 stelle Sicilia. Non ha provveduto al taglio del proprio stipendio, nonostante il Consiglio Comunale di Gela abbia votato anche un atto di impegno in questo senso, col fine ulteriore di generare un effetto domino normativo che avrebbe portato automaticamente alla riduzione delle indennità degli assessori e dei consiglieri. Messinese aggiunge il Movimento 5 stelle Sicilia ha avallato il protocollo di intesa tra Eni, Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Siciliana. Un accordo che il gruppo parlamentare all'Ars del Movimento 5 stelle ha osteggiato con tutte le sue forze, non soltanto perché in aperto contrasto con i suoi principi, ma anche perché contrario alle più accreditate politiche di tutela ambientale, energetiche, occupazionali e di economia turistica. Il sindaco di Gela invece di metterla in discussione e bloccarlo l'ha accettato consentendo che sul territorio di Gela si avvini attività di esplorazione e produzione di idrocarburi con la perforazione di nuovi pozzi e la riapertura dei vecchi, in questo contribuendo a deturpare ulteriormente il paesaggio e compromettendo inevitabilmente l'equilibrio biologico delle acque costiere, oltre al grave danno derivante all'economia turistica della zona. In ultimo conclude il Movimento 5 stelle Sicilia, avallando questo protocollo messinese accetta la riconversione degli impianti per la produzione di olio di palma per avviare i piani di recupero dei livelli occupazionali. Programmi vetusti totalmente avulsi dalle politiche energetiche e ambientali dettate dai nuovi obiettivi europei e di conseguenza piani che si stanno rivelando completamente inutili. Il Movimento 5 stelle Sicilia non fa alcun riferimento nella sua nota all'epurazione dei tre assessori, l'orefice da Mante e di Paola dalla giunta capitanata da messinese avvenuta negli ultimi giorni e dei contrasti con il gruppo consigliare Grillino. Ma da più parti si sostiene che siano stati proprio questi episodi a portare il Movimento a livello regionale, a non riconoscere il primo cittadino gelese come attivista 5 stelle. Si chiude un anno col botto politico a Gela, se ne preannuncia un altro altamente esplosivo. Molte delle affermazioni sono totalmente infontate e pretestuose, di conseguenza non so da chi abbiano avuto le informazioni anche perché io personalmente non sono stato contattato e fra le altre cose gli atti ufficiali e le azioni intraprese da questa amministrazione sono perfettamente in linea con quello che avevamo previsto all'interno del nostro programma elettorale e per quello che noi crediamo come fondamentale, come acqua, rifiuti, come crescita di un territorio. Devo riuscire a capire le motivazioni di queste accuse perché accusare è facile, sono accuse pretestuose e quello che più mi colpisce è che non sono stato contattato direttamente per avere delle risposte e debbo sapere dalla stampa che sono stato espulso da un movimento in cui credo e che i miei valori e i miei principi si identificano. È chiaro che il mio compito è quello di servire la città ed è quello che continuerò a fare nel miglior modo fino a quando ci sono le condizioni. Dopo di cui prenderò le mie decisioni però sono sicuro che la città di Gela con tutti i problemi che ha. Il vero problema è l'occupazione e lo sviluppo del territorio e non certo se qualcuno fa parte di un simbolo o di un altro simbolo. Il mondo reale ha delle regole diverse rispetto al mondo virtuale dove in realtà questo tribunale ha sancito la mia espulsione in modo del tutto autonomo e non so nemmeno fino a quando legittimo. Comandante, se dovessimo tracciare un bilancio delle attività del 2015 di questo anno che sta finendo, che bilancio sarebbe? È stato un anno senz'altro positivo, un anno che ha visto una riduzione a Gela dei reati che particolarmente creano allarme sociale, quali danneggiamenti seguiti da incendio, i furti, c'è stato un calo addirittura del 60% delle rapine. È stato un 2015 all'insegna della prevenzione e il dispositivo di controllo del territorio ha senz'altro funzionato. Questo è un anno che per quanto ci riguarda è iniziato molto bene con una bella operazione di servizio, l'operazione di SEA che ha portato in carcere sette persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia quadrare messa dal GIP presso il tribunale di Caltanissetta per un'associazione disarticolata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Poi in primo grado già ci sono stati i primi esiti perché ci sono state anche combinate le condanne pesanti nei confronti delle persone che sono state arrestate. E poi è stato anche un anno che ci ha visto anche molto impegnato su fronte appunto del contrasto ai reati commessi anche dai giovani, anche in un'ottica preventiva, quindi segnalazioni numerosissime per l'articolo 75, per il DPR 30990, quindi per l'uso personale di sostanze stupefacenti e anche alcuni sequestri di sostanze stupefacenti. Comandante, i due episodi che si sono verificati con delle sparatorie hanno fatto temere a molti che si potesse ripiombare negli anni bui degli anni Ottanta. Lei invece che idea si è fatto? Un episodio senz'altro grave, soprattutto quello di dieci giorni fa avvenuto in piazza. Stiamo lavorando intensamente coordinati alla Procura Repubblica presso il Tribunale di Gela sull'attività investigativa e su tutti quelli che sono i riscontri e speriamo di poter naturalmente portare dei buoni risultati e di riuscire ad addivenire l'identificazione degli autori dell'omicidio. Secondo lei su quali reati si dovrà continuare a lavorare intensamente in termini di prevenzione? Soprattutto sui giovani. Io in diverse circostanze ho incontrato gli studenti delle scuole medie di primo grado, delle scuole medie di secondo grado e anche grazie all'ausilio delle associazioni di volontariato ho fatto degli incontri con numerosissimi giovani, ai quali ho spiegato ad esempio il rischio dell'abuso di sostanze alcoliche, l'uso di sostanze stupefacenti, quali rischi dal punto di vista giuridico potrà comportare l'uso o l'abuso di queste sostanze. Soprattutto in un'ottica di prevenzione ho cercato anche di incontrare molti imprenditori, quelli della zona industriale di Gela, negli alcuni mesi vessati da alcuni episodi di furto e ho consigliato loro ad esempio il collegamento con il sistema di teleallarme al 112 ma di ottenere degli idoni sistemi di difesa passiva che possono naturalmente consentire loro di proteggere il loro patrimonio ma soprattutto le attività imprenditoriali. Sono tanti e tutti diversi i fronti sui quali la Guardia di Finanza a Gela ha lavorato in questo 2015 che si conclude oggi. Attività intense che hanno visto le fiamme gialle impegnate sia nel campo della prevenzione dei reati che in quello della repressione. Il capitano Massimo De Vito traccia un bilancio dell'anno trascorso. Diversi sono i punti cardine dell'attività della Guardia di Finanza e anche a livello nazionale come negli altri anni molta attenzione è stata fatta a quella che è la tutela delle uscite proprio perché in un periodo particolare andiamo a controllare i modi in cui vengono spesi i soldi che la collettività raccolgono per alimentare lo Stato. Così anche a Gela quest'anno noi siamo impegnati nel controllare questo settore e insieme alla tutela delle uscite siamo stati anche molto attenti alla tutela del mercato in generale e della concorrenza leale. Queste attività sono state fatte con attività quotidiane, diuturne come potevano essere i controlli su strada, la lotta alla contraffazione e rispetto della normativa fiscale più spicciola come i controlli in tema di scontrino ricevute, quelli che vengono fatti quotidianamente nei negozi. Accanto a questi servizi quotidiani sono stati intrapresi anche servizi di maggiore spessore, di maggiore rilevanza, quelli che vanno a toccare settori un po' più delicati come i famosi crimini legati ai colletti bianchi, agli apparti pubblici, ai fallimenti che purtroppo in questo periodo sono stati molto costanti, specie nella nostra circoscrizione. Accanto ai maggiori settori di cui parlavo prima abbiamo anche tenuto a cuore la tutela dell'ambiente. Gela è una città particolare dove la tutela dell'ambiente ha una particolare valenza ed ecco che quindi tutti questi servizi fatti in tema di contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti ma anche attività di polizia giudiziaria vera e propria svolta nel settore sono proprio finalizzate a restituire a Gela quello che è il suo territorio e cercare un po' di liberarlo dalla morsa dell'inquinamento. Infine è stata ovviamente rivolta l'attenzione della tutela delle entrate. È un periodo di crisi e ovviamente siamo stati attenti a non andare a intaccare situazioni già borderline che potevano in qualche modo mettere in crisi economica società fondamentalmente serene, sane ma che stavano attraversando un periodo di particolare difficoltà. Invece siamo andati a guardare quelle società che del crimine, dell'evasione, del non rispetto delle regole avevano fatto il loro cavallo di battaglia quotidiano. L'anno prossimo ovviamente tutte queste attività verranno ancora una volta intraprese, i punti cardine rimangono gli stessi. Speriamo di ottenere degli ottimi risultati perché la città di Gela se li merita e colgo l'occasione di questi pochi minuti per fare il mio augurio per un 2016 importante e ricco di soddisfazioni a tutti i cittadini. Si è tenuto ieri il consiglio di fabbrica dell'RSU e del gruppo Eni congiuntamente con le segreterie di Filctem, Femca e Wiltec per continuare a discutere della vertenza Gela. Le sigle sindacali continuano congiuntamente a monitorare la difficile situazione e contestano il contegno posto in essere dalla raffineria nel procedere in maniera unilaterale con un assetto organizzativo gestionale non condiviso tra le parti, così come scrivono i sindacalisti in un documento condiviso e dichiarano i nostri microfoni. Abbiamo fatto un consiglio di fabbrica alla luce di un'azione unilaterale fatta dall'azienda per quanto riguarda un assetto organizzativo che c'era posto a settembre di quest'anno dove noi avevamo delle perplessità su quello che era l'organizzazione presentata. Naturalmente noi dobbiamo essere un po' conseguenziali non per quanto riguarda l'assetto organizzativo ma soprattutto su quello che l'accordo stesso è. L'accordo prevedeva che c'erano nell'arco di tre anni, tre anni e mezzo, circa 2,2 miliardi che dovevano essere spesi sul territorio. Questi soldi dovevano avere una parte su quello che è l'investimento sia nell'esplorazione che nella parte della Green Refinery e su questo noi ci dobbiamo confrontare perché l'organizzazione del lavoro è importante non solo per la raffineria ma anche su Enimed e sulle altre società che sono nate come l'SCC e la Sindel che dovevano essere trasferite altri lavoratori nel complessivo. Quindi noi riteniamo che di pari passo devono camminare in una certa maniera gli investimenti e nell'altro senso avere in modo di fare delle organizzazioni dove noi dobbiamo fare assieme all'agenda con un accordo e non in maniera unilaterale come lei vorrebbe fare. Voi avete delle perplessità in realtà sul mantenimento dei livelli occupazionali? Non sono perplessità ma sono dati di fatto. Noi all'inizio di questa partita eravamo 1143 persone. Allo stato attuale sono andate via 600 unità e il numero si riduce perché è vero che l'accordo prevedeva che dovevano essere 400 persone alla fine nella fiera ma tuttora le condizioni tecniche, operative e gestionali non ci permettono di mantenere quel livello occupazionale che chiede l'azienda. Quindi noi vogliamo fare un confronto con l'azienda per verificare se ci sono le condizioni tecniche affinché si raggiunga quel numero 400. Che cosa si è inceppato nel meccanismo? Perché all'inizio era stato garantito, all'inizio di tutta questa trattativa cioè quando si cominciò a parlare di trasformazione dello stabilimento in green raffinery si parlò di mantenimento dei livelli occupazionali. Dove si è inceppata la macchina? Cosa non ha funzionato e cosa si deve fare immediatamente? Il tutto si è inceppato perché sostanzialmente come diceva il collega 2,2 miliardi di euro spesi sul territorio è una bella cifra. fatta con un barile a quasi 100 dollari ha un senso e rappresenta anche per l'azienda un capitale di investimento. Fare un investimento con un barile a 38 dollari questo comunque crea dei freni alla società per gli investimenti che deve fare. Ma dal punto di vista occupazionale dove si è inceppato? Si è inceppato perché ci sono stati dei ritardi dal punto di vista dell'apertura dei cantieri sia per quanto riguarda la realizzazione della green raffinery sia per quanto riguarda il progetto Argo Cassopea che è il progetto che c'è in esplorazione e perforazione. Stiamo tentando in tutti i modi possibili di far garantire quando prescritto nel protocollo. Se non dovesse essere così è sicuro che dovremmo passare a delle azioni di lotta dello stato di agitazione che in questo momento non è consigliabile perché già nel territorio di Gela c'è una tensione c'è un clima altamente esplosivo. Lei giustamente parla facendo riferimento anche a concetti di macroeconomia con l'andamento del petrolio però come si fa a spiegare questa circostanza così lontana dalla vita quotidiana delle famiglie ad un operaio che da un giorno all'altro ha perso il lavoro? Questa situazione è una situazione davvero paradossale perché noi all'atto della firma del 6 novembre avevamo posto l'allarme che prima di iniziare con gli investimenti prima di mettere in campo tutta la fase di progettazione sapendo che il 2015 a livello di apertura di cantierizzazione ce ne sarebbe stata pochissima avevamo allertato sia il governo sia il Ministero del Lavoro sia la Regione che la fase degli strumenti speciali le leggi speciali che dovevano accompagnare in particolar modo i lavoratori dell'intotto dovevano essere pronti e disponibili la realtà è invece che ci siamo trovati di fronte a tamponare giorno per giorno questa situazione senza una programmazione e senza una retribuzione certa per questi lavoratori Una nuova occasione di riflessione ai detenuti del carcere di Contrada Balate a Gela la proposta alla proloco di Gela che attraverso l'eccellente collaborazione con la direzione dell'Istituto di Pena ha realizzato il calendario 2016 dal titolo Libertà e partecipazione citando un vecchio brano dell'intramontabile Giorgio Gaber sono stati i detenuti ad elaborare i pensieri per ogni mese dell'anno L'iniziativa è stata presentata nella sala riunioni del carcere alla presenza dei vertici della direzione della casa circondariale della polizia penitenziaria della giunta comunale e dei rappresentanti della proloco Enfatizzerei la parola partecipazione perché la solitudine non porta a nulla probabilmente quando c'è un problema il primo pensiero è isolarti spesso abbiamo detenuti che vedono nell'altro il loro problema l'avere compiuto delle cose è stato a causa di altri e allora cosa scelgono? Scelgono di isolarsi l'isolamento non è cosa buona partecipare scommettersi darsi dare all'altro creare relazioni le relazioni creano problemi ma perciò solo non finiremo mai di scommetterci di partecipare come proloco siamo contentissimi per questa bellissima iniziativa che abbiamo portato avanti nata dall'intuizione del nostro socio è un calendario dove ogni detenuto ha potuto scrivere una frase che in realtà non è una semplice frase ma sono dei messaggi è un calendario unico in Italia perché proprio in ogni mese c'è una frase scritta da questi detenuti dalla casa circondariale di Gela la cosa bella è che questo calendario ha un titolo libertà e partecipazione libertà ovviamente è fondamentale perché non ci può essere l'una senza la partecipazione dell'altra e la cosa importante che noi consideriamo come evento è questo non dimenticarci degli ultimi e questa ci dà in qualche modo quel senso di appartenenza anche alla società è una bella iniziativa dove è stato presentato un lavoro con i pensieri dei detenuti del carcere di Gela un modo per poter integrare delle persone che sicuramente nella loro vita hanno avuto dei problemi ma che sono qui all'interno di questa struttura per poter pagare per i propri errori ma per poter avere mettere quelle condizioni per iniziare una vita nuova diversa il progetto grafico è stato curato da Elisa Enedino e Gianni Caputo la stampa porta la firma della tipografia Franco Gulizzi importante è anche l'apporto fornito dal Free Press Made in Sicily edito da Giacomo Gulizzi il calendario è in distribuzione gratuitamente anche col prossimo numero del Corriere di Gela diretto da Rocco Cerro Anche quest'anno la tua stella di solidarietà una raccolta di bene di primissima necessità per le famiglie indigenti a questa iniziativa ci collabora Gela Famiglia la parrocchia Santa Lucia e il Tempio di Apollo e tutto questo l'abbiamo potuto fare anche grazie soprattutto all'amministrazione comunale all'assessore Francesco Salinito che si è prodigato senza alcun problema a rendere ancora più bella questa giornata la giornata si concluderà con la sottoscrizione del consumo critico che è questa la base fondamentale della nostra associazione la sottoscrizione del modello critico significa dove noi indirizziamo i cittadini ad acquistare presso quei negozi che hanno dichiarato ufficialmente di non pagare il pizzo Anche quest'anno l'associazione Antiracket ci ha invitato a questo evento signor Capponetti ogni anno organizza appunto questo momento per aiutare le famiglie in difficoltà attraverso associazioni attraverso le parrocchie i commercianti porteranno degli alimenti e questi alimenti si rivederanno tra di noi e ne usufruiranno le famiglie bisognose quindi un grazie va all'associazione Antiracket nella persona del signor Capponetti ma anche all'istituzione a tutti i volontari a tutti i commercianti che contribueranno a far sì che le famiglie che vivono di momenti di difficoltà possono avere anche un allaggeramento del loro peso l'ex provincia regionale di Caltanissetta decide di uscire dal consorzio universitario l'ente tra i soci fondatori del consorzio è stato in questi anni uno dei principali sostenitori economici assieme al comune di Caltanissetta oltre ad aver messo a disposizione gratuitamente i locali che ospitano in via real maestranza il corso di ingegneria elettrica una scelta che ha scatenato in città una serie di reazioni prima fra tutte quelle del segretario generale della CISL Gianfranco Di Maria noi chiediamo al commissario di revocare questa scelta siamo addirittura indignati che un commissario che viene da Palermo nominato sostanzialmente per 30 giorni arrivi e immediatamente ci metta fuori da quello che è stato da quello che è il consorzio universitario che noi abbiamo fondato e quando parlo di noi io ritengo che i dipendenti non siano dipendenti siano collaboratori la differenza tra dipendente e collaboratore è che il dipendente fa quello che gli dice l'imprenditore senza che gli interessa niente il collaboratore fa parte della squadra la provincia è una cosa nostra anche come azienda noi siamo assolutamente offesi che senza manco sentire il nostro parere abbia fatto qualcosa di questo genere poi per la città non è possibile che un ente prestigioso come la provincia venga messo venga estromesso dal consorzio universitario il nuovo ente il nuovo libero consorzio dovrà avere nuove competenze ma non solo le competenze che ha oggi la ex provincia regionale di Caltanissetta può aiutare anche nella redazione dei progetti il consorzio universitario e dobbiamo fare un plauso devo fare un plauso al sindaco perché ritenevo di essere un'unica voce di restare un'unica voce invece mi pare di aver letto questa mattina che anche lui è in qualche modo indignato io chiedo che anche la città si indigni noi non possiamo perdere oltre la Banca d'Italia e le altre cose che abbiamo perso anche questa opportunità per noi è una opportunità è Natale al quartiere arabo della città e Betlemma Iangeli il presepe vivente più amato dei misseni ad aprire i festeggiamenti il saluto di padre Salvatore Lovetere nella chiesa di San Domenico che ha accolto la sacra famiglia ai figuranti delle presepe con i loro antichi mestieri che hanno poi trovato spazio nelle case costruite dagli arabi recuperate dall'associazione di volontari che si occupano dell'allestimento del presepe tra le strette vie dello storico rione si respira varia di festa accompagnata dal suono dei fiati e delle percussioni della banda musicale Giuseppe Verdi per noi è il settimo anno che facciamo il presepe vivente per noi è un motivo di vanto di gioia e di speranza anche perché in questo presepe quest'anno abbiamo voluto dare un tema un po' particolare quello della solidità facendo vedere anche scorci particolari del nostro quartiere e poi il presepe tradizionale con la Sacra Famiglia che fin da adesso ringrazio per la loro disponibilità da due mesi che lavoriamo in maniera molto molto solo però sappiamo che è qualcosa di bello non solo per noi stessi che ci lavoriamo ma anche per lo stesso quartiere che con grande genosità ha voluto realizzare per l'intera volta questo presepe vivente è la prima volta che partecipiamo al presepe vivente ed è una cosa bella perché comunque andiamo a rappresentare un qualcosa che è importante per la Chiesa e per chi è fedele alla Vannara Oscar Paro a Ricottara sono solo alcuni dei personaggi rappresentati dai più di 60 figuranti tutti rigorosamente residenti al quartiere Angeli il batterferro mescolare la ricotta condire con oli e spezie e il pane appena sfornato sono stati alcuni dei momenti più rappresentativi della serata ricordi ed emozioni raccontate da alcuni di loro ai nostri microfoni per me è la prima volta e sono contenta di presentarlo perché è una cosa una cosa nuova per me mi sento contenta mi ricordo quando mia mamma lavava i panni che si chiudeva la porta con la con la pila quella che si metteva a terra mia mamma dietro la porta che lavava il te e si inginocchiava e lavava questo me lo ricordo avevo un 4 anni 5 anni è una cosa che viene dal profondo del cuore è che veniamo tutti assieme qua per essere un'unica famiglia e per rappresentare la grazia di Dio e siamo qua tutti assieme formeremo il presepe più bello che ci sia c'è anche il gelese Walter Micichè tra i convocati dalla Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di docente per lo stage di formazione per tecnici nazionali per l'ottenimento della qualifica di esperto nelle attività di base e formazione giovanile che si svolgerà dal 2 al 5 gennaio prossimi a Castellammare di Stabbia inoltre Micichè svolgerà il ruolo di collaboratore presso il Gym Campus Invernale ancora una volta dico grazie alla Federazione Nazionale di Ginnastica perché mi ha convocato al Gym Camp nazionale il Gym Camp verrà fatto a Castellammare a Napoli avrò in quell'occasione una duplice veste una come collaboratore dello staff perché ci saranno 40 ginnasti che dovremo allenare e l'altra parte è quella che vengo convocato come docente per quanto riguarda lo stage numero 3 e 4 con l'obiettivo della formazione tecnica di tecnici nazionali questo ovviamente mi dà il piacere di poter lavorare a grandi livelli con grandi soddisfazioni e soprattutto volevo dire grazie alla direttrice nazionale Emilia Napolini che mi ha permesso ancora una volta di fare questa esperienza a a a a a Grazie a tutti.